Intanto un bilancio di questa edizione, chiamiamola di primavera inoltrata, insomma a Montesanzavino. Beh, è stata decisamente una giornata meravigliosa perché sicuramente il cielo ci ha assistito, però direi che Montesanzavino per noi è sempre una garanzia, perché è un paese laddove lavoriamo sul concetto di comunità, un paese, un borgo come Montesanzavino per noi è una piazza decisamente perfetta per quelli che sono proprio i valori del mercato delle pulci. Come procede questo progetto e a cosa vi state allargando? Diciamo che il rapporto con Montesanzavino nasce prima di tutto dal rapporto con la Proloco di Montesanzavino, proprio perché nell'ottica dello stare insieme, del dare valore alle cose, le realtà come le Proloco, in cui ci sono persone che poi fanno volontariato in virtù dell'amore che provano per il loro territorio, è stato un tipo di lavoro che ci è piaciuto molto e in realtà ci ha formato anche a noi staff del mercato delle pulci. Quindi in questo senso, riconoscenti verso la Proloco di Montesanzavino, andiamo a fare un lavoro adesso con la Proloco di Castiglion Fiorentino, dove andremo a portare un altro tipo di progetto. Ci puoi dire qualcosa? Sì, diciamo che lì c'è una piccola fiera storica del paese che è la mostra scambio di cose vecchie usate e semplicemente andiamo a collaborare a una cosa un po' più piccola che è il settore Amarcord del mercato delle pulci, quello fatto dagli hobbisti, il piccolo antiquariato e il vintage. Insomma, una comunità che abbraccia sempre più realtà. Esatto, ci piace moltissimo la parola comunità, noi andiamo a conoscerne di nuove ogni volta e andiamo a integrarci dove possibile.